amici di inno al cinema bentornati sul canale buon lunedì mattina buon inizio settimana questi auguri non possono che voler dire che è il momento di una nuova puntata di tutti i numeri del lunedì il box office di inno al cinema vi siete svegliati in un mondo meno solare e meno bello di quello che credevate vero come siete duri figlioli miei voi e il vostro idealismo cinefilo si sa io amo la settima arte più di me stesso vivo per il cinema spero sempre nel meglio ma mi preparo sempre al peggio soprattutto quando ci sono le basi per farlo stamani dobbiamo parlare di un brutto esordio di un bruttissimo esordio diciamola tutta quello di furiosa a mad max saga sia a livello americano sia che sia a livello mondiale il film aperto male vedremo dopo i numeri parto da lontano perché diciamo che il primo argomento caldo da affrontare in questo inizio di stagione cinematografica estiva mondiale perché c'erano le basi per aspettarselo perché parlo di a un certo punto idealismo cinefilo che ottene bra la mente e gli occhi perché mi era palese nei commenti nei messaggi che ricevevo nelle ultime settimane negli ultimi mesi che in molti avevano dimenticato probabilmente idealizzato la vera natura economica e anche di riscontro di pubblico di mad max fury road che ben inteso è un capolavoro e tale resta è un film di culto e tale resta è un film che ha vinto sei oscar e tale resta è che sicuramente ha aumentato la sua fama e la sua fanbase dopo la sua iniziale uscita al cinema ma non ai livelli che a molti piace pensare e quindi guardiamoli un attimo i numeri del passato mad max fury road esce nel maggio 2015 esattamente nove anni fa giorno giorno più giorno meno rispetto a furiosa il 2015 è un anno importante per il botteghino mondiale americano e mondiale la corsa americana di mad max fury road il film amato da tutti celebrato idolatrato finisce a 153.6 milioni di dollari lo ripeto 153.6 milioni cifra che permette al film di george miller di richiudere in ventunesima ventunesima posizione nella classifica americana la sua corsa 21 21 153.6 milioni oggigiorno nell'epoca post pandemica argomento che affronteremo dopo potrebbero sembrare un buon risultato e da un certo punto di vista potremmo anche dire che lo sono per il sequel più reboot di una saga che era ferma a quel punto da 30 anni o giù di lì ma poi dobbiamo vedere i film che trionfano quell'anno e le loro cifre stiamo ancora parlando di stati uniti mi sono fermato a quel tipo di dati il primo film per incassi negli stati uniti del 2015 è jurassic world che piaccia o meno che piaccia o meno ricordiamolo ragazzi quando parliamo di box office il pubblico è sovrano in questi in queste ore in questi giorni spero che l'amico in questione non si offenda se cito la nostra discussione sul gruppo degli abbonati è nata una discussione anche relativa a quello che il pubblico si merita si meritano la merda devono scoppiare il pubblico è sovrano abbiamo sempre non quest'anno per furiosa non l'anno scorso sempre ho anche fornito agli abbonati delle classifiche degli anni 90 di inizio anni 2000 a dimostrazione visto film meno belli anche brutti in molti casi incassare più di altri è un fenomeno che non si basa sulla qualità a parte che a me jurassic world piace lo sapete e sono impopolare per questo secondo me non se ne è colta la l'interessante natura metatestuale ben più diciamo intelligente di quanto si potesse pensare in quel tipo di blockbuster in quegli anni la però vabbè so strano io insomma la qualità in questi discorsi non c'entra niente quindi evocare cthulhu le maledizioni degli inca per chi non va a vedere furiosa e magari va a vedere chissà cosa sono veramente bambinate stronzate che sinceramente non mi appartengono insomma il primo film nella classifica americana del 2015 è jurassic world di colin trevorro ricordiamolo 153.6 milioni per mad max fury road nell'anno in cui jurassic world certo franchise molto molto più famoso di mad max in cassa negli stati uniti 652 milioni vogliamo un altro esempio guardiamo chi c'è in seconda posizione ovviamente ti piace vincere facile c'è star wars the force awakens episodio 7 con 651 quindi testa a testa e fin qua uno può dire grazie in jurassic world jurassic park star wars ok al terzo posto abbiamo avengers age of ultron con 459 milioni incassati negli stati uniti quando la marvel era la marvel davvero e uno mi può dire è la marvel contro mad max che vuoi che sia che paragone del cazzo certo scusate in top 10 c'è anche furious 7 che sappiamo è stato un fenomeno anche per la cronaca dietro le quinte che ha accompagnato il film con 353 milioni praticamente il doppio di fury road e uno diceva beh furious 7 è giusto comprendiamo è anche morto paul walker c'è questo interesse un po' anche morboso purtroppo nei confronti del film avete ragione sono tutti i franchise più famosi più appetibili per il pubblico e però poi io scorrevo questa top 10 scorrevo e poi sono arrivato fatto e qui casca l'asino perché fury road nel 2015 arriva ventunesimo con 153.6 milioni nell'anno in cui american sniper ce n'è franchise si c'è bledley cooper che abbiamo visto poi negli anni non è che sia una garanzia di successo c'è clint eastwood stessa cosa idem con patatine american sniper incassa 348 milioni negli stati uniti praticamente una trentina di milioni in meno del totale mondiale di fury road sì perché mad max fury road ripeto oggi l'abbiamo cristallizzato in questa sua forma di cult assoluto film intoccabile film che conoscono le nonne i nonni gli zii i cusini quelli che non vanno mai al cinema e ovviamente noi appassionati mad max fury road diciamolo senza se senza ma è stato un flop è stato un flop costando circa 170 milioni e incassandone 380 e anche qui lo sottolineiamo poi ormai il concetto dovrebbe essere abbastanza chiaro 380 milioni oggi nel 2024 sono un risultato dalle carzi baffi per le major nel 2015 no è il tipo di risultato anche se quel film era andato un po sopra che aveva deluso nel caso di un film altro film amatissimo dagli appassionati meno al pubblico generalista come pacific cream che però quantomeno si era avvicinato ai 500 pur costando di più se non sbaglio di fury road fury road costato circa 170 milioni avrebbe trovato il suo ideale punto di pareggio intorno ai 500 non li ha visti neanche col lumicino poi il fatto che sia stato prodotto un prequel il fatto che si sia investito ancora grandi soldi nella saga di george miller ci dice che sicuramente quel film come vi dico sempre dei guadagni li ha prodotti ma in seconda battuta probabilmente in un video probabilmente con i diritti televisivi tutto quello che vi pare io infatti vi dico questo per tre lo prendiamo lo mettiamo in un angolo lo consideriamo ma fino a un certo punto da un certo punto di vista per rigirare un attimo la frittata l'esistenza di furiosa dimostra che la regola del per tre tanto nove anni fa come oggi lascia il tempo che trova perché fury road a malapena ha incassato un 2.3 rispetto al suo budget dichiarato poi chissà quanto è costato veramente il film eppure neanche il giorno dopo nove anni dopo ecco arrivare il suo prequel ed è solo uno dei mille casi che vi ho portato ad esempio in questi mesi per dire che secondo me nell'epoca post pandemica dove il si salvi chi può è all'ordine del giorno il per tre lascia molto a desiderare ormai come canone di calcolo di successo diciamo che è la spiaggia più sicura in un mare in tempesta ma non è l'unica è il paradiso in un mondo dove ormai ci si può accontentare o ci si deve accontentare a livello produttivo e di incassi del purgatorio sicuramente ma non è l'unico indice ormai calcolabile di successo l'esistenza di furiosa nella dimostrazione e quindi ragazzi è inutile scandalizzarsi è inutile ripeto ululare alla luna e vergognarsi di appartenere alla razza umana che rende furiosa diciamolo subito un flop perché nessun tipo di tenitura nelle prossime settimane tra poco ne parliamo potrà far raggiungere a questo film un ideale punto di pareggio o quantomeno di guadagno di guadagno o di pareggio siamo davanti a un flop ma un flop che se mettiamo da parte gli idealismi dei cinefili questa voglia eccessiva che tutto vada secondo un copione che non è quasi mai esistito nella storia del cinema era ampiamente prevedibile c'era chi gridava al miliardo chi gridava ai 500 chi ai 7 800 non è possibile che il bacino di utenza di una saga rebuttata nove anni fa e che quindi appartiene di nuovo già al passato improvvisamente raddoppi l'ho detto nelle scorse settimane andrà bene se riuscirà a pareggiare il risultato di fury road e più passavano le settimane più mi sembrava evidente pur continuando a sperare anch'io che un po di idealismo lo mantengo ma sempre con un razziacinio di fondo a guidarmi che non sarebbe successo e i dati che sto per leggervi lo confermano furiosa infatti per la quale erano previsti circa 35 milioni di incasso in questo che tra l'altro ricordiamola era il memorial day weekend quindi un weekend che storicamente dovrebbe essere anche abbastanza ricco in cassa invece solo 25 milioni e mezzo secondo le proiezioni tra l'altro in questo momento è considerato primo in classifica ma i dati finali di stasera di domani potrebbero ribaltare la cosa addirittura farlo scivolare al secondo posto a favore del film che in questo momento secondo le proiezioni della domenica sera è appunto alle sue spalle in seconda posizione mad max fury road nello stesso periodo quindi anche giusto fare il confronto del 2015 aveva incassato 45.4 milioni quindi all'appello mancano 20 milioni tondi tondi 20.1 se vogliamo fare i pignoli uno potrebbe dire e vabbè ha incassato 153 milioni all'epoca fury road negli stati uniti ma ne ha fatti 200 in tutto il mondo ovvero milione più milione meno 150 230 perché appunto il totale di 380 e spiccioli quindi si potrà salvare in corner con i mercati internazionali sembra proprio che la situazione non sarà questa visto che anche a livello internazionale il film guadagna qualcosa in più rispetto agli stati uniti ma neanche di di un margine troppo alto 33.3 sono i milioni incassati fuori dagli stati uniti dal film di george miller per un totale alla fine del suo primo guadagna di sfruttamento di 58.8 milioni facciamo 60 ok è un disastro ragazzi non c'è niente da fare ricordiamo il film sulla carta è costato 168 milioni ma io a rotondo a 170 praticamente ha pareggiato il budget dichiarato dichiarato poi chissà cos'è successo dietro le quinte del suo predecessore e anche in questo caso i 500 milioni dovrebbero essere sulla carta l'isola felice il paradiso che ve lo dico a fare non è assolutamente non solo raggiungibile ma avvicinabile tra l'altro segnaliamo che ci sono molti report anche di influencer tiktoker di sale normali vuote e di assalto alle sale formato deluxe IMAX e compagnia cantante infatti di questi 58 59 milioni 60 un sesto 9 milioni e mezzo di dollari proviene dalle sale IMAX di tutto il mondo e di nuovo esercenti che non capiscono una mazza dicevo non solo non è raggiungibile o avvicinabile il traguardo ideale che tanto sapevamo non avrebbe mai raggiunto dei 500 ma a questo punto è assolutamente fuori questione che raggiunga anche l'incasso ottenuto a fine corsa da Fury Road 380 milioni e spiccioli ieri in alcuni post social dicevo faticherà arriverà ad arrivare ai 300 milioni globali poi però io mi sono rifatto dei conti ragazzi e la verità dei fatti qual è? guardiamo il bicchiere mezzo pieno prima guardiamo il bicchiere mezzo pieno praticamente da qui a metà giugno quindi per circa tre settimane il film ha poca o quasi inesistente concorrenza esce l'esorcismo con Russell Crowe un altro titolo di cui in questo momento non ricordo non ricordo qual è l'altro titolo in questione ma roba esce anche Inside Out 2 ma non è roba che va a fare concorrenza necessariamente a Furiosa anche se quando arriverà Inside Out a metà giugno la corsa sarà quasi finita o sarà lì a raccattare gli ultimi spiccioli insomma fatto sta che se escludiamo Inside Out 2 l'esorcismo è qualcos'altro che arriverà a lungo la strada Furiosa ha praticamente un mese di mercato libero che potrà aiutarla a parlo del film facendolo rappresentare dalla sua protagonista ad avere delle buone teniture vedremo la prossima settimana se ci sarà un calo verticale che io vorrei escludere con dei dati così bassi ma ripeto mi preparo ormai al peggio visto questo esordio decisamente deludente per molti impensabile questo è il bicchiere mezzo pieno c'ha un mese per guadagnare un po' di terreno ma anche a guadagnare un po' di terreno lo sappiamo bene il calo al secondo weekend per un film del genere se va tutto bene è fra il 50 e il 55 e il 60% questo significa che nel prossimo weekend può arrivare a 90 milioni a un weekend da 30 milioni 100 totali parlo degli Stati Uniti con gli infrasettimanali se va decisamente bene se poi da lì si ripetono cali del 30 40 50% ragazzi io dico che è molto difficile che il film vada molto al di là dei 200 milioni o succede qualcosa nelle prossime settimane come è successo per esempio a un altro film di cui parleremo tra poco che sta godendo di una tenitura molto buona ma con delle cifre decisamente più alte o ragazzi il massimo a cui può aspirare il film sono davvero i 200 milioni vogliamo essere positivi? facciamo 250 resta il fatto che il film è costato 170 facciamo anche 200 mai? fra tutto quello che non hanno dichiarato e la promozione e che quindi da qualsiasi punto di vista lo si guardi il film è un insuccesso è un insuccesso un insuccesso che fa male perché colpisce un film che per quanto mi riguarda è un ottimo film che oggi tornerò tra l'altro a vedere perché voglio avere mente fredda quando ne parleremo mercoledì sera nel movie talk show con spoiler insieme ai miei ospiti preparatevi perché ci sarà probabilmente un due contro due all'ultimo sangue e fa male ma che ripeto bisognava prevedere o quantomeno era lecito aspettarsi sulla base dei risultati ben poco incoraggianti del film precedente che lo risottolineo è uscito nove anni fa per il pubblico significa un'eternità recupererà tanti soldi non video sono già stati annunciati i cofanetti con tutta la saga in 4k la versione in bianco e nero come nel caso di fury road che uscirà in mille e mille edizioni steelbook 4k cazzi e mazzi che faranno faville tra gli appassionati sono sicuro che nel lungo termine riuscirà ad essere fruttevole per la warner ma come diciamo sempre qua parliamo degli incassi in sala e da quel punto di vista furiosa è una delusione lo dico per l'ultima volta per chiudere sottolineando il concetto una delusione che però era lecito purtroppo aspettarci e la vita va così signore e signori chiudiamo questa enorme parentesi dedicata a furiosa era lecito e doveroso farlo passando appunto al film in seconda posizione ha aperto già da qualche settimana nei mercati internazionali tra i quali l'italia ma è uscito questo weekend il weekend del memorial day garfield the movie negli stati uniti con 24.7 milioni come vedete lo scarto dai 25 milioni e mezzo di furiosa è minimo e per questo vi dico potrebbero esserci delle sorprese nei dati finali potrebbe essere garfield il primo film in classifica del weekend e non furiosa che diventano 31.8 con l'esordio di giovedì del weekend lungo appunto del memorial day 31.8 milioni incassati in questo weekend lungo d'esordio da garfield negli stati uniti ai quali si aggiungono questo weekend 14 milioni incassati a livello internazionale dove il totale ha raggiunto i 66.3 milioni per un totale globale a ora di 91.1 milioni che risultato è? discreto discreto ma decisamente lontano da un punto di successo visto che il film è costato poco ma comunque 60 milioni è costato dovrebbe raggiungere i 180 li raggiungerà non credo ma i 150 li supera in abbondanza quindi non si rivelerà un enorme successo ma soprattutto di nuovo con uno sfruttamento casalingo importante sono sicuro che potranno risultare soddisfacenti i 60 milioni investiti o meglio giustificati i 60 milioni investiti sul film vedremo anche perché abbiamo visto che i film per famiglia e per un pubblico più ampio negli ultimi tempi hanno goduto di una buona tenitura la sua corsa è appena iniziata negli Stati Uniti e tutto fa pensare che possa andare bene quindi io dico 150 è la base ma non è escluso che 180 li possa raggiungere parlavamo appunto di film per famiglie al terzo posto abbiamo in tenitura If Imaginary Friends il film di John Skrasisky che tra l'altro non ho ancora recuperato che cala bene rispetto all'esordio e in cassa cala del 52.2% quindi va bene per il tipo di film che è in cassa 16.1 milioni nel weekend che diventano 21 con il weekend lungo dei 4 giorni i dati dei 4 giorni sono solo per queste due novità gli altri poi guardiamo solo il weekend tradizionale o meglio If perché è in top 3 non è una novità chiaro scusa il totale raggiunto negli Stati Uniti è di 58.6 milioni ai quali si aggiungono i 40 totali incassati fuori dagli Stati Uniti e un totale globale per un totale globale di 103 milioni e mezzo di dollari il film è stato costosissimo è costato più di 100 milioni 130 se non sbaglio quindi anche qua si faticherà a trovare un guadagno effettivo dallo sfruttamento cinematografico ma la seconda vita del film dirà se l'investimento sarà stato giustificato al quarto posto abbiamo il regno del pianeta delle scimmie e qui devo dire che nonostante appunto un budget che ancora non è stato coperto con un per tre ideale nonostante il film debba ancora guadagnare qualche decina di milioni per risultare un successo anche relativo i dati sono ben più incoraggianti il film infatti negli Stati Uniti nel weekend ha incassato 13.3 milioni di dollari calando benissimo soltanto del 47.5% e raggiungendo un totale negli Stati Uniti di 122.8 milioni questo weekend fuori dagli Stati Uniti si sono aggiunti 20.6 milioni agli incasi internazionali del film che hanno raggiunto il totale di 172 milioni questo significa che il totale cumulativo tra Stati Uniti e il resto del mondo è di 294.8 fai 295 milioni di dollari questo ci dice come avevamo già predetto che praticamente i 300 milioni sono già cosa fatta li raggiungerà e supererà nel corso di questa settimana con gli infrasettimanali con un weekend intorno ai 31 milioni è lecito aspettarsi che il film da qui a 3-4 settimane superi i 350 ma direi che è abbastanza difficile se non impossibile che raggiunga i 400 anche qua non si raggiungerà un per 3 ideale di successo ma visto i tempi che corrono direi che il margine per vedere andare avanti la saga c'è poi non voglio essere troppo ottimista non voglio bruciarmi troppo in anticipo secondo me il film avrà anche un buon riscontro in un video avrà un buon riscontro in streaming su Disney Plus e credo che sommando le tre cose la Fox Disney troverà insomma una base concreta per portare avanti la saga o almeno così spero visto che come sapete al contrario di altri ho molto apprezzato questo quarto capitolo del reboot della saga delle scimmie al quinto posto The Fall Guy comincia ad avvicinarsi alla fine della sua corsa ai botteghini con 5.9 milioni nel weekend cala benissimo però va detto rispetto allo scorso weekend del 29.1% raggiungendo però un totale molto basso di 72.2 milioni di dollari nel resto del mondo sono soltanto 4.1 i milioni incassati questo weekend per un totale praticamente che pareggia con l'americano di 71.6 milioni per un totale globale di 143.8 milioni è lecito aspettarsi da questo punto la conclusione della corsa intorno ai 160 170 milioni di dollari un risultato che ci può stare per il tipo di film ma che comunque appunto non riesce a coprire idealmente il budget investito al sesto posto scivolone clamoroso fino al sesto posto ma c'era da aspettarsi per The Strangers Chapter One che però naviga in acque decisamente più tranquille questo weekend l'horror terzo capitolo di una saga da me molto apprezzata tra l'altro incassa 5.6 milioni calando discretamente per un horror del 52.6% e raggiungendo il totale negli Stati Uniti di 22.7 milioni tutto ancora da vedere la strada sui mercati internazionali visto che per ora il totale incassato fuori dagli Stati Uniti è soltanto di 1.2 milioni che porta il suo totale globale a 23.9 milioni mi sembra che sia costato meno di 10 milioni quindi va già bene così supererà tranquillamente i 30 e risulterà un incasso se non stratosferico più che sufficiente a giustificarne la produzione al settimo posto abbiamo un film di cui non so assolutamente niente ho visto solo che è un drammone ispirato a una storia vera con protagonista Greg Kinnear il film si chiama Sight e Vista e abbiamo solo il dato americano di questo weekend che è di 3.6 milioni dubito che avrà un'ampia distribuzione internazionale credo che sia uno dei tanti drammoni diretti diciamo indirizzati direttamente al pubblico americano per poi magari finire in qualche piattaforma streaming nel resto del mondo continua a incassare discretamente Challengers di Luca Guadagnino calando soltanto del 51.9 rispetto allo scorso weekend siamo ovviamente alla fine corsa del film appunto con Zendaya 1.3 milioni questo weekend negli Stati Uniti dove il totale ha raggiunto i 46.4 milioni ai quali si aggiungono i 35.1 incassati nel resto del mondo per un totale globale di 81.8 milioni risultato veramente buono per un film che è sicuramente non un blockbuster è un dramma d'autore che ha saputo sfruttare bene la forza trainante della sua star principale ovvero Zendaya raggiungendo un risultato che appunto vista la tipologia di film nonostante il budget tra 55 milioni può risultare dal mio punto di vista soddisfacente mentre non può risultare decisamente soddisfacente la performance di Back to Black negli Stati Uniti l'abbiamo detto se nel resto del mondo il film è riuscito il biopic di Amy Winehouse è riuscito a incassare a oggi 38.7 milioni negli Stati Uniti il film è un vero e proprio tonfo visto che al secondo weekend cala del 61.2% incassando solo 1.1 milioni e raggiungendo un totale americano di 4.9 milioni chiuderà probabilmente sotto i 10 milioni totali gli incassi americani comunque permettono al film di avvicinarsi ai 50 milioni totali e arrivando a 43.9 milioni fino a questo punto non credo che ci arriverà ai 50 sarà un investimento chiaro scuro perché insomma sarebbe stato un buon successo il film se avesse ripetuto il dato internazionale anche negli Stati Uniti cosa che non è successa sicuramente anche questo film in un video in streaming farà guadagnare qualcosa ma la performance in sala è decisamente deludente almeno per quanto riguarda il mercato statunitense chiude la top 10 un film una commedia tutta il femminile di cui ho iniziato a sentire parlare spesso negli ultimi giorni devo un attimo informarmi meglio si tratta di Babes anche in questo caso abbiamo solo il dato americano che è di 1.4 milioni di dollari a ora sembra insomma che la stampa di settore americana stia spingendo molto questo film ci sono dei nomi interessanti coinvolti mi informerò e poi capiremo se è prevista anche un'uscita in Italia magari è già stata annunciata e me la sono persa però un po' di curiosità mi è venuta per questo film fuori dalla top 10 americana mi sembra giusto sottolineare che Godzilla e Kong ha raggiunto i 564.8 milioni quindi veramente si fermerà un sostanziale pareggio con Kong Skull Island che ricordiamolo finora è il maggiore incasso con 568 e spiccioli milioni di dollari del MonsterVerse e chiudiamo la pagina americana alleluia finalmente sottolineando un sollievo perché pensavo davvero si fermasse a 199.9 che Ghostbusters minaccia glaciale tanto per levarsi un piccolo sfizio in una situazione decisamente complessa per il film ha superato i 200 milioni e ha raggiunto nello specifico i 200.2 milioni di dollari il film sta per arrivare in un video se non sbaglio è già disponibile sulle varie piattaforme per i noleggi e gli acquisti digitali o se non lo è a breve lo sarà negli Stati Uniti vedremo se questo mercato collaterale importantissimo per la saga di Ghostbusters aiuterà il film e un eventuale futuro della saga vediamo non guffiamo niente passiamo all'Italia e ve lo dico in francese anche in un dialetto molto molto stretto l'Italia è nella merda a livello di box office questo è stato un weekend nerissimo nerissimo per il mercato cinematografico italiano facciamo il solito confronto fra quest'anno l'anno scorso il 2019 l'incasso totale di questo weekend appena conclusosi è stato di 2.845.293 euro l'anno scorso grazie all'esordio però ma sottolineato di un film importante come La Sirenetta che tra l'altro non andò neanche bene come ci si aspettava il secondo weekend in tenitura di Fast Ten erano stati incassati 7.248.757 euro quindi il calo fra questo weekend e il suo corrispettivo del 2023 è di un sanguinoso 60.6% non vi dico poi contro il confronto con il 2019 weekend nel quale si incassavano 10.472.387 euro grazie agli esordi di Aladin ed è il traditore di Marco Bellocchio il dato ancora più tragico il dato ancora più nero è che nei prossimi giorni gli incassi del 2023 nello stesso periodo di calendario supereranno quelli del 2024 e ormai è un dato di fatto che visto che quest'estate non presenterà dei fenomeni e dei titoli forti se escludiamo Deadpool e Wolverine come Barbie e Oppenheimer l'anno scorso Oppenheimer tra l'altro in maniera del tutto inattesa da un certo punto di vista il distacco fra l'anno scorso e il 2024 non potrà che aumentare da qui fino all'autunno mi viene da chiedermi ma perché sta andando così male il cinema negli ultimi due mesi io credo che oltre ai danni causati anche a livello di calendario dagli scioperi giusti e sacrosanti ma forse poco lungimiranti da parte di Hollywood io credo che le major ambulanza scusatemi credo che le major abbiano sopravvalutato il boom di Oppenheimer e Barbie e invece di farne tesoro di nuovo come spesso accade in questi casi abbiano preferito adagiarsi sugli allori si è creduto grazie all'exploit nel caso di Oppenheimer clamoroso che il cinema fosse tornato in auge come se la pandemia non fosse mai esistita si è continuato a proporre un tipo di calendario in cui tutto è centralizzato a livello di uscite come nel periodo natalizio e ora quell'estivo e non si è pensato a lavorare sulla mentalità e la percezione dell'esperienza cinematografica sul pubblico è un dato di fatto che l'estate piuttosto che il Natale non sono più questioni che attirano le grandi masse al cinema non è più una tradizione andare d'estate con i grandi film a Natale non come prima ovviamente certo sono sempre picchi di incasso ma decisamente minori non si è lavorato il giorno dopo la chiusura delle corse di Oppenheimer e di Barbie non si è detto bene abbiamo riportato le persone in sala teniamocele si è continuato con questi calendari in cui per due o tre settimane un mese non esce niente poi escono cinque film insieme poi c'è il boom di Natale il nulla di gennaio e di febbraio poi il blockbusterino a marzo poi il blockbusterone a maggio cinque film insieme non può funzionare più così almeno dal mio modestissimo e umilissimo punto di vista il mercato cinematografico c'è bisogno di far partecipare far sentire come esclusiva l'esperienza in sala agli spettatori spettatori che infatti si vede non stanno più andando al cinema dopo alcuni pochi pochissimi explo è un peccato ma a un certo punto bisogna anche prendere alto di quando è l'industria stessa a non saper ragionare sulle mancanze di un mercato migliore rispetto a uno due tre anni fa ci mancherebbe altro ma ancora in ginocchio a causa dei cambiamenti di stili di vita dovuti al periodo pandemico io sono Michele Innocenti non so leggere non so scrivere non conto un cazzo queste domande me le pongo questi signori sono probabilmente troppo impegnati a contare le buche di miliardi fatte con le loro cazzo di piattaforme streaming che dovevano essere le loro galline dalle uova d'oro lo ripeto come in passato e invece sono diventate il loro peggior nemico perché svuotano le sale luoghi da dove facevano veramente i soldi in passato e non creano profitti complimenti Hollywood continua così aspetta che la nave sia affondata prima di tappare il buco nella nella la falla scusatemi nella nave vabbè in una situazione assolutamente desolante a furiosa bastano pensate 694.585 euro per risultare il film più visto del fine settimana scusate è un dato abbastanza sconfortante media di 1500 euro bassissima per un film così front loaded all'esordio il confronto con Mad Max Fury Road è impietoso se di giovedì giorno di uscita di entrambi c'era stato un sostanziale pareggio quindi questo vi dimostra che il primo giorno tutti gli appassionati sono tornati a vederlo così come nel 2015 sono andati a vedere Fury Road visto che Fury Road aveva incassato 125.969 euro e furiosa di giovedì ne ha incassati 120.092 c'è da sottolineare che il weekend di esordio Fury Road aveva incassato 1.027.613 euro quindi mancano all'appello poco più di 300.000 euro Fury Road il film amato da tutti il colossal clamoroso aveva finito a 3 milioni la sua corsa in Italia 3 milioni non sono un cazzo nulla lo sapete ormai meglio di me vedremo se furiosa zitta zitta 4x4 come è successo ad altri titoli negli ultimi 2 o 3 mesi riuscirà a guadagnare terreno sul lungo termine anche grazie a una mancanza di alternativa in sala e magari raggiungere a fine corsa il suo predecessore non è assolutamente scontato vedremo cosa succederà nelle prossime settimane ma da qualsiasi punto di vista lo si guardi anche in Italia l'esordio di Furiosa è abbastanza problematico IF continua a reggere bene negli Stati Uniti continua a reggere bene anche in Italia secondo posto per il film diretto da John Krasinski per famiglie con un calo ottimo del 43% una media di 933 euro e un incasso questo weekend di 430.035 euro che permettono al film di raggiungere il totale di 1.321.157 euro niente di eccezionale ma anche qua vediamo come si comporta nelle prossime settimane perché come altri film per famiglie potrebbe riservare delle sorprese sul lungo termine inizialmente si pensava a un bagno di sangue in Italia per il regno del pianeta delle scimmie il film invece come nel resto del mondo continua a comportarsi più che discretamente sono 306.636 gli euro incassati questo weekend con un calo più che dignitoso del 54% rispetto allo scorso weekend è una media sopra i 1.000 euro nei 1.012 euro il totale raggiunto dal film è di 2.509.676 euro che sottolinea come la distanza da The War il pianeta delle scimmie continua ad assottigliarsi infatti il film conclusivo della trilogia di Cesare diretto da Matt Reeves alla sua terza domenica aveva incassato 2.8 milioni quindi si è assottigliata la differenza tra i due film vedremo a fine corsa come si comporteranno in relazione l'uno con l'altro al quarto posto abbiamo l'ennesimo buco nell'acqua del cinema nostrano è solo uno dei due che sono presenti in top 10 questa settimana Vangelo Secondo Maria con Benedetta Porcaroli tratto da un libro molto apprezzato nel nostro paese non solo incassa solo 151.943 euro pensate il quarto film in classifica c'ha 151.000 euro di incasso roba da avere brividi e per entrare in top 10 in top 3 bastano 300.000 roba ragazzi da mettersi le mani nei capelli ma registra anche la peggior media copia media per copia della top 10 469 euro di nuovo a chi parla il cinema italiano pagato con i nostri soldi che piace tanto a Paolo Innocenti solo a se stesso e andiamo avanti così continuiamo a farci del male la poesia le nuvole gli unicorni com'è bello produrre arte al quinto posto Abigail cala del 50% incassa 147.725 euro con una media di 539 euro per schermo e raggiunge un totale poco sopra il mezzo milione di 528.996 euro non si avvicinerà neanche al milione totale uscita quasi tecnica per un film che è andato decisamente sotto le aspettative della Universal un po' in tutto il mondo va decisamente meglio paradossalmente per un film che non ho visto ma che mi dicono pessimo la profezia del male che cala bene del 46% rispetto allo scorso weekend e con una media di 704 euro per schermo incassa a 135.258 euro e supera la soglia del milione arrivando a 1.13.961 euro quindi soprattutto se il film è quello che è direi che è andata meglio che per quanto riguarda Abigail al settimo posto Challengers continua a racimolare gli ultimi eurini della sua corsa buon calo del 46% un incasso di 117.187 euro con una media di 662 euro per schermo e un totale veramente ottimo va detto di 4.156.082 euro praticamente si mette in tasca i due grandi franchise da cui ci si aspettava fuoco e fiamme nelle ultime settimane ovvero le scimmie e Furiosa all'ottavo posto The Fall Guy incassa a 102.502 euro calando del 45% rispetto allo scorso weekend con una media di 707 euro per schermo per un totale però abbastanza deludente di 2.043.550 euro al nono posto c'è il secondo film italiano che fa un bel buco nell'acqua è Marcello Mio film in cui Chiara Mastroianni fa rivivere il padre Marcello Mastroianni trasformandosi appunto nel grande attore storico attore italiano sono solo 93.254 gli euro incassati dal film che tra l'altro registra la stessa media per copia la peggiore quindi della top 10 di Vangelo secondo Maria ma avendo a disposizione praticamente la metà delle sale quindi stessa pessima copia ma con meno sale a disposizione quindi migliore comunque del film con Benedetta Porcaroli chiude la top 10 di questo Mirallegro guardiamo il bicchiere mezzo pieno il bellissimo torno a consigliarvelo con tutto il cuore il gusto delle cose film con Juliette Binoche che rappresentava quest'anno agli Oscar pur non avendo raggiunto la nomination la Francia 91.853 euro incassati questo weekend con un calo del 40% che rappresenta la miglior tenitura della settimana rispetto alla precedente della top 10 per un totale di 482.335 euro spero quanto meno e credo che ce la faccia che superi la soglia psicologica del mezzo milione totale sarà in sala ancora per pochi giorni ver davvero col cuore in mano se lo trovate in una sala vicina a vostra disposizione correte a vederlo perché è un film straordinario siamo tornati alle lunghe lunghissime puntate di tutti i numeri del lunedì ma così era necessario oggi ragazzi i film ci fanno gioire i film ci fanno piangere sono io il primo questo lo devo sottolineare in chiusura a soffrire di questo brutto colpo inferto dal pubblico e dal mercato internazionale mondiale a furiosa io oggi faccio il mio e torno a vederlo perché insomma ripeto voglio parlarne con criterio mercoledì sera al movie talk show probabilmente domani dopo pranzo ci troviamo qua in live con una nuova puntata di innocenti ma non troppo questa settimana tornano gli wufufufufufufu ma sul canale di Paolo giovedì o venerdì sarà la volta dell'ufufufufufu dedicato ai crime movie tema diciamo prenotato da da Daniele G uno dei nostri abbonati con una super chat da 10 euro se anche voi volete fare un uufufufu volete vederci a fare un uufufufufu di vostra scelta potete così prenotare una delle prossime puntate anche se ora ce ne sono già tre o quattro già impegnate da altre richieste dopodiché appunto mercoledì sera ci troviamo alle 21 21.30 in live con il nuovo movie talk show dedicato appunto alla discussione con spoiler di Furiosa a Mad Max saga e ve lo ridico preparate i popcorn perché sarà un 2 contro 2 probabilmente da farsi prendere un infarto e poi nel corso del resto della settimana troveremo qualche altro contenuto da offrirvi sicuramente il dottor Pelli mi aveva chiesto un uufufufufufu probabilmente lo faremo in uno speciale Q&A in cui dedicheremo un po' di tempo anche alle domande vostre del pubblico di Inno al Cinema è solo l'inizio questa nuova puntata di tutti i numeri del lunedì di una nuova gansissima settimana di programmazione del canale per non perdervi nessun contenuto di Inno al Cinema se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al canale ad attivare la campanella delle notifiche per sapere quando tutti i nuovi contenuti arrivano su questi lì per restare sempre aggiornate sugli annunci di quello che arriverà sul canale vi invito a seguire la nostra pagina Facebook il nostro profilo Instagram e se volete anche il mio profilo Instagram privato Michelinno85 più siamo meglio è i 6.000 sono sempre più vicini quindi condividete Inno al Cinema con i vostri migliori nemici e i vostri peggiori amici ve lo dico sottovoce perché uno dei quattro che dovrebbero essere in live mercoledì per il movie talk show sarà un grande e lieto ritorno su Inno al Cinema a buon intenditor speriamo che rispetti la parola data ragazzi con tutti i numeri del nuovo dealbox office di Inno al Cinema questa nuova puntata del 27 maggio 2024 vi auguro un buon inizio settimana ci vediamo nei prossimi giorni con tutti i contenuti del canale un saluto e alla prossima e alla prossima Grazie a tutti.